ciao questa è la seconda video lezione dedicata alla narrativa italiana negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale in realtà qui abbandoniamo il neorealismo abbandoniamo gli anni 40 ci inoltriamo negli anni 50 e incontreremo degli altri scrittori alcune considerazioni che verranno esposte in questa video lezione vedrete sono abbastanza in comune tra il mondo della narrativa il mondo della poesia per esempio accenneremo alla formazione del gruppo 63 che riunisce intellettuali che in realtà sono attivi in tutti gli ambiti della letteratura quindi alcuni concetti li anticipiamo qui ma li ritroveremo anche nella terza video lezione è dedicata specificamente alla poesia vediamo quindi qualche ulteriore linea di sviluppo della narrativa italiana che cosa accade oltre il neorealismo naturalmente sempre con i limiti di scelte antologiche di cui io solo sono responsabile buon lavoro dopo la stagione del neorealismo la narrativa prese strade diverse una figura sicuramente importante perché isolata e legata a un unico romanzo fu quella di giuseppe tomasi di lampedusa che scrisse nel 1958 il gatto pardo tomasi di lampedusa era un nobile siciliano erede di una casata che vantava parecchi anni di storia il gatto pardo del titolo è in realtà il felino rampante che c'è sullo stemma della famiglia di nobili siciliani che a sua volta è protagonista del romanzo tomasi di lampedusa scriveva unicamente per diletto in una serie di quaderni manoscritti aveva composto questa storia che in realtà rimase inedita fino alla sua morte nel 58 gli eredi penarono non poco presentando il manoscritto a diversi editori fino a quando la casa editrice feltrinelli una delle maggiori a gravitare nell'ambito della cultura marxista in italia decise di pubblicare il libro suscitando peraltro reazioni piuttosto vivaci e negative da quegli intellettuali marxisti che in teoria avrebbero dovuto condividere la sua impostazione qual era la colpa di tomasi di lampedusa che vediamo qui in un ritratto fotografico uno dei pochi perché non ci sono molte fotografie di giuseppe tomasi di lampedusa nel gatto pardo in realtà le sorti della sicilia sono presentate come immutabili i siciliani sarebbero rassegnati a stare ai margini della storia senza nessuna possibilità di riscatto per le classi umili in altre parole la negazione della visione marxista della vita la colpa di lampedusa agli occhi degli intellettuali marxisti sarebbe stata quella di prospettare una sicilia in cui a nessun livello esiste una coscienza di classe e in cui gli umili non solo non possono ma nemmeno vogliono essere riscattati più recentemente anche dato il grande successo editoriale il romanzo è stato meglio compreso e ha goduto di maggior favore anche da parte della critica ma sicuramente una parte degli intellettuali di sinistra ancora oggi non lo ama se è vero come vero che pochi mesi prima di morire anche andrea camilleri papà di montalbano ebbe modo di parlarne molto male in un'intervista pubblica lui è bloccato in un'idea astorica della sicilia non antistorica astorica crede di fare la storia in realtà fa così scoppiato il piano il pianto su quello che la nobiltà o almeno una certa parte della nobiltà è stata della sicilia la vicenda del gatto pardo ha alcuni tratti in comune con quella dei vicerei cioè narra le difficoltà di una nobile famiglia siciliana che si adopera per conservare i propri privilegi nel momento in cui si arriva all'unità d'italia e in effetti la vicenda comincia proprio pochi mesi prima dell'invasione dei garibaldini ma mentre gli uzzeda i protagonisti del romanzo di de roberto in qualche modo sono dei trasformisti e camaleonticamente riescono ad andare a occupare i nuovi posti di potere i vecchi gattopardi rappresentati dal principe di salina il protagonista del romanzo rifiutano il cambiamento e moriranno ammonendo però che dopo di loro dopo i gattopardi la sicilia finirà in mano alle iene e agli sciacalli da questo bellissimo romanzo fu tratto nel 1963 un bellissimo film ad opera di lucchino visconti che ricordiamolo era anche lui un intellettuale marxista e che compì un'astuta operazione di spostamento del focus ideologico del romanzo cioè mentre tomasi di lampedusa sottolineava che cambiamenti non se ne potevano fare nel libro in qualche modo la sconfitta del vecchio principe di salina sembra quasi promettere un riscatto sociale degli umili dell'isola naturalmente il film è uno dei capisaldi della cinematografia mondiale e pochissime immagini sarà il caso di vederle sullo sfondo di una sicilia che sta per essere invasa dai garibaldini invasione spettacolarmente ricostruita da visconti nel film il principe fabrizio corbera di salina assiste quasi impotente e certamente rassegnato al declino del prestigio nobiliare in un dialogo con il nipote tancredi che per opportunismo invece intende arruolarsi lui stesso nei garibaldini pur essendo di famiglia nobile si sintetizza la necessità di adattarsi ai nuovi tempi con un'espressione rimasta proverbiale tutti imbroglioni un falconeri sta con noi per il re per il re, certo ma quale re? l'hai detto tante volte pure tu? se fosse ancora vivo il re Ferdinando ma Franceschiello, Dio guardi no zio, no perché tu crede che il piemontese, quello che chiamano il galantoma sarà molto meglio dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui e allora che ne diresti della repubblica di Don Peppino Mazzini? credi Mizione se non ci siamo anche noi quelli ti combinano la repubblica in 448 se vogliamo che tutto rimanga com'è bisogna che tutto cambi mi sono spiegato ma il mondo degli antichi gattopardi è giunto al tramonto e un sontuoso ballo nella parte conclusiva del film sottolinea lo spegnersi di quei valori gli antichi gattopardi, i nobili siciliani saranno sostituiti da iene e sciacalli e da un nuovo padrone proveniente dal Piemonte ma nulla per i siciliani cambierà mai davvero noi fummo i gattopardi i leoni che ci sostituirà saranno gli sciacalli, le iene e tutti quanti i gattopardi, leoni, sciacalli e pecore continueremo a crederci il sale della terra credo di non aver capito bene come dicevamo il meraviglioso film di Lucchino Visconti cambia radicalmente la visione ideologica dell'autore Tomasi di Lampedusa ma oltre ad altri il film di Visconti ha certamente un merito quello di aver portato sullo schermo l'attore Mario Girotti divenuto poi in seguito più noto come Terence Hill Don Matteo negli anni 50 si fa a largo anche un atteggiamento nuovo quello dello sperimentalismo e della neo-avanguardia per sperimentalismo intendiamo in realtà la tendenza a superare tutte le forme artistiche di scrittura tanto narrative quanto poetiche che erano diffuse precedentemente sicuramente uno degli obiettivi polemici dello sperimentalismo è il neo-realismo che ormai viene considerato superato e da qui nasce la cosiddetta neo-avanguardia che è un esperimento soprattutto poetico ma che influenza anche la narrativa in quest'ambito si sviluppano due importanti riviste che faranno un po' da portavoce a questa istanza di rinnovamento Officina, alla quale collaborerà a lungo il giovane Pierpaolo Pasolini intellettuale che vedremo quando parleremo dei poeti e il Menabò, cui collaborarono Elio Vittorini e anche un giovane Calvino in Officina si denunciava la crisi del neo-realismo proponendo però un ritorno ai modelli della narrativa tendenzialmente ottocentesca quindi un recupero delle forme anche nobili e alte del linguaggio e sulle colonne di Officina si dibatte a lungo del ruolo dell'intellettuale militante vi intervenne per esempio anche Palmiro Togliatti segretario del Partito Comunista chiamando tutti gli intellettuali italiani ad un impegno organico come a dire non puoi essere un intellettuale se non sei comunista ma se sei comunista devi impegnarti perché il paese comprenda che quella è l'unica strada politica percorribile ebbene Elio Vittorini, anche lui militante ebbe il coraggio di dire esplicitamente di no rivendicando il diritto di scrivere anche per il gusto di scrivere Sul Menabò invece si teorizzava la necessità di ampliare gli orizzonti culturali italiani proponendo una letteratura che fosse soprattutto europea e analizzando con cura, sempre da una prospettiva marxista il rapporto che poteva esistere tra narrativa e industria in questo ambito si sviluppa la produzione di tutta una serie di narratori degli anni 50 tra cui Paolo Volponi, Carlo Cassola, Luigi Meneghello e altri e nell'ambito della poesia lirica esortava a una completa rottura degli schemi espressivi delle generazioni precedenti Su questo si innesterà il movimento di poeti che verrà pubblicato in un'antologia intitolata I Novissimi che esce nel 1961 e il gruppo 63 cioè un movimento a cui aderirono almeno una cinquantina di intellettuali italiani tra scrittori, narratori, poeti il cui scopo principale era la denuncia delle incoerenze della società dei primi anni 60 e il tentativo attraverso la letteratura di rendere evidenti queste contraddizioni a volte con la provocazione linguistica parleremo, parlando di poeti, di Edoardo Sanguiniti che del gruppo 63 fu in qualche modo il maggior teorico Successivamente tutto il panorama culturale si apre al cosiddetto postmoderno Sintetizzare le diverse istanze che confluiscono nel movimento detto postmoderno non è semplice Proviamoci con tutti i limiti di una presentazione scolastica Il postmoderno è anzitutto una condizione antropologica cioè una condizione dell'uomo che si diffonde soprattutto a partire dagli anni 60 del 900 e che si ritrova nelle diverse forme d'arte Tra le motivazioni principali c'è il fatto che la società capitalistica che prometteva negli anni 50 felicità e piena realizzazione dell'individuo è andata in crisi, aggredita da vari fattori tra cui gli elementi economici e finanziari che hanno ormai dimensione globale l'aggressività dei messaggi pubblicitari l'invadenza della televisione che negli anni 60 e 70 l'avevamo già detto a proposito di Montale è un po' la grande nemica della cultura e poi anche il flusso delle informazioni sulle reti telematiche e in questo senso la condizione perdura naturalmente negli anni 60 e 70 non si può immaginare la diffusione del mondo virtuale ma si nota che il mondo comincia a essere forse pericolosamente interrelato ne deriva l'abbandono nella fiducia dei grandi progetti elaborati per l'uomo fin dall'epoca dell'illuminismo e infatti una delle componenti del postmoderno sarà la conseguente sfiducia nelle scienze positive i grandi ideali non funzionano nemmeno nel caso in cui siano stati riadattati dai grandi pensieri utopici per esempio il marxismo il postmoderno quindi si configura come una scuola di pensiero che in qualche modo supera la visione marxista della realtà la letteratura postmoderna in particolare è caratterizzata dallo sperimentalismo dalla frammentazione della narrazione e anche dalla inaffidabilità del narratore il quale più che un bugiardo spesso semplicemente non sa che cosa cerca o che cosa vuole e condivide con il lettore questa incertezza la storia viene riletta in maniera da essere giudicata priva di ogni finalismo ossia negli eventi che ci hanno preceduti non c'è scopo non c'è disegno superiore non c'è significato dal punto di vista formale predominano il citazionismo e il riuso spesso ironico e spregiudicato del repertorio delle forme del passato cioè molto spesso le opere d'arte sono soltanto un entrare e uscire dalla citazione d'otta che coinvolge in questa sorta di gioco letterario anche il lettore talvolta la lingua stessa è una forma di pastisce linguistico ricordate che avevamo parlato di pastisce già per alcune opere vagamente sperimentali dell'ultimo pascole come il poemetto Italy ma negli anni 60 del 900 questa è una strada che verrà praticata con singolare creatività i generi letterari vengono contaminati tra loro è molto difficile stabilire a quale genere letterario appartenga un romanzo quando la sensibilità postmoderna si diffonde e il lettore viene chiamato a condividere un gioco quindi si richiede la sua complicità certamente il lettore non assisterà a una lezione di vita o una descrizione efficace del reale che lo circonda ma la letteratura stessa altro non diventa che un gioco combinatorio la conseguenza ultima è che si assiste all'abolizione della distinzione tra i prodotti più alti della cultura e quelli della cultura di massa in maniera che la letteratura stessa perda quella caratteristica di prodotto d'élite che con varie connotazioni bene o male fino a quest'epoca ha continuato a conservare si tratta naturalmente di alcune osservazioni teoriche che adesso cercheremo di calare nella produzione di un autore che in maniera particolarmente efficace rappresenta proprio l'evoluzione del narratore dal neorealismo al postmoderno questo personaggio è Italo Calvino che trovate sul vostro libro di testo a partire da pagina 962 Calvino nacque a Cuba per la precisione a Santiago de Las Vegas de la Havana ma per caso nel senso che il padre e la madre erano agronomi di fama mondiale e curavano lì alcuni esperimenti botanici approfittando delle condizioni climatiche dei Caraibi la madre in particolare è l'autrice di un testo fondamentale per la storia dell'agronomia in uso ancora oggi tornato da Cuba crebbe però in Liguria gravitando poi su Torino per gli studi universitari dove si iscrisse alla facoltà di Agraria partecipò alla Resistenza soprattutto nell'area del Piemonte Meridionale al confine con la Liguria e nell'immediato dopoguerra si iscrisse come tanti altri giovani intellettuali dell'epoca al Partito Comunista Italiano Negli anni torinesi lavorò per Reinaudi per il quale successivamente sarebbe diventato un importante e influente consulente editoriale e pubblicò nel 1947 il suo primo romanzo Il Sentiero dei Nidi di Ragno ambientato nel mondo della resistenza combattuta tra la Liguria e il Piemonte Meridionale e in questo senso influenzato dal neorealismo ma per certi versi che già supera quell'esperienza nel senso che la dimensione resistenziale è ben evidente ma la resistenza è vista e narrata attraverso la sensibilità e gli occhi di quello che è poco più che un ragazzino dal soprannome di PIN che la trasfigura come una sorta di avventura fantastica e quando riesce a procurarsi l'arma di ordinanza di un ufficiale tedesco cioè una pistola va a nasconderla nel bosco in un posto che conosce solo lui appunto il sentiero dove ci sono i nidi di ragno quindi la dimensione della cruda realtà tipica del neorealismo viene in realtà modificata con l'inserimento di alcuni elementi fantastici non manca in realtà una certa crudezza e anche volgarità nella descrizione di situazioni e nell'uso del linguaggio e non manca neppure la componente politica nel sentiero dei nidi di ragno in effetti uno dei capitoli è stato inserito unicamente perché il commissario politico della scalcagnata brigata in cui PIN partecipa alla resistenza faccia loro una specie di corso sulla visione marxista della società ma va detto che anni dopo Calvino riconobbe che quel capitolo era per così dire stato inserito a forza e che il romanzo se ne sarebbe giovato probabilmente se quelle pagine politiche non fossero mai state scritte quindi una dimensione di neorealismo calata però in una sensibilità diversa e va detto che il primo ad accorgersene lo avevamo accennato fu Cesare Pavese che in qualità di consulente editoriale e recensore per Einaudi parlò per primo di una sensibilità ariostesca nelle pagine di Calvino e fu un'intuizione critica particolarmente acuta perché il tono di Calvino è proprio per certi versi quello di Ariosto cioè una disincantata e sorridente visione del mondo in cui si comincia molto presto a non credere ai propri miti così come Ariosto fa dell'ironia sulla virtù dei propri cavalieri ricordate il verso celebre o gran bontà dei cavalieri antiqui così il giovane PIN sembra smitizzare quella resistenza che ancora non ha completato di costruire il proprio mito in quegli anni si guadagna fama come narratore in particolare con il cosiddetto ciclo dei nostri antenati in cui emerge nuovamente il gusto per il fantastico nel 1956 la repressione sovietica messa in atto in Ungheria scatena in Calvino una sorta di crisi di coscienza e compromette la sua fede marxista lascerà il partito comunista pur continuando a considerarsi un intellettuale di sinistra e nel 1967 lascerà anche l'Italia e le sue beghe partitiche trasferendosi per un lungo periodo a Parigi sono gli anni dell'apertura al postmoderno e sono gli anni anche in cui Calvino frequenta lo strutturalismo diffuso in Francia cioè una tecnica fondamentalmente combinatoria che permette di giocare con la letteratura più che di affidare ad essa un messaggio ideologico nella produzione si osservano appunto i tre romanzi che furono poi ripubblicati in volume unico con il titolo dei nostri antenati nel 1952 il Visconte di Mezzato racconta la storia di Medardo di Terralba che durante una delle guerre del Settecento viene diviso da una cannonata e sopravvive nelle due metà in cui per paradosso letterario si sono concentrate rispettivamente tutta la bontà e tutta la malvagità del personaggio nonostante questa componente fantastica e incredibile si tratta di una riflessione sul significato dell'esistenza perché quando alla fine del romanzo con un evidente paradosso attraverso un'operazione chirurgica impossibile le due metà vengono ricucite Medardo dice di se stesso di essere molto più responsabile e di aver capito molto meglio il significato della vita segno che l'uomo non può pensare di essere solo buono o solo malvagio ma deve scendere a patti con entrambe le sue componenti in una sorta di riscrittura geniale del mito di Jackie Lehyde nel 1957 Calvino scrive il barone rampante che dei tre romanzi è quello sicuramente più impegnato e anche il più lungo che è la storia del giovane appartenente a una nobile famiglia che ha il nome di Cosimo Piovasco di Rondò al giovane Cosimo a cena una sera il padre e la madre esponenti di quella nobiltà molto rigida che caratterizza la fine del settecento italiano propongono una immangiabile minestra di lumache Cosimo la rifiuta esce dalla finestra sale su uno degli alberi che quasi si affacciano sulla sala da pranzo del grande palazzo nobiliare e decide che non scenderà mai più quindi si inventa un'esistenza alternativa rampante cioè in realtà arrampicato sugli alberi a dimostrazione che il mondo dal quale proviene ha fatto il suo tempo e che una sorta di rivoluzione è necessaria l'autoaffermazione di sé la rivendicazione orgogliosa del diritto di vivere come gli pare contro le regole dell'ancien regime sono il significato del romanzo quel mondo è tramontato e il comportamento borderline del giovane Cosimo che vivrà sugli alberi tutta la vita è la sua personale rivoluzione nel 1959 con la pubblicazione di Il cavaliere inesistente Calvino in qualche modo si fa beffe anche dei valori della cavalleria così come erano stati teorizzati da quel mondo di cui lo stesso Ariosto era un esponente e che per primo Ariosto aveva in qualche modo messo in discussione si tratta in generale in effetti di una satira di una riflessione ma anche di una demitizzazione della storia il protagonista del cavaliere inesistente Agilulfo vive all'interno di un'armatura candida e immacolata ma in realtà non esiste è la sua sola forza di volontà che gli permette di agire e di interagire con gli altri personaggi che invece sono più che altro un concentrato di limiti e miserie umane e non certo i paladini senza macchie e senza paura della tradizione medievale anche la cat il classico tema dell'epica cinquecentesca italiana cioè la ricerca di ciò che è molto bramato ma difficilmente potrà essere raggiunto come era angelica per Orlando nel poema di Ariosto in qualche modo qui è deformato Agilulfo per poter dimostrare a Carlo Magno di meritare la condizione di cavaliere deve addirittura inseguire una verginità cioè deve dimostrare che la donna che ha salvato e che gli è valso il titolo era ancora illibata nel momento in cui lui la sottrasse a morte ne deriva una forma di parodia intelligente ma sicuramente molto arguta di tutto quel sistema di valori che in realtà non è tale e le grandi imprese cui tutti i paladini sono chiamati altro non sono che paradossi in questo più che nei due romanzi precedenti Calvino comincia a giocare con il linguaggio l'affermazione che un cavaliere agisce ma non esiste è naturalmente possibile soltanto attraverso la magia della parola è una realtà difficile da visualizzare certamente altrettanto difficile da rappresentare concretamente su questa sorta di equivoco linguistico e della possibilità appunto di giocare con le parole Calvino costruirà parte della carriera successiva nel 1965 escono raccolte in volume le Cosmicomiche cioè in realtà una nutrita serie di racconti che Calvino ha scritto nei due anni e mezzo precedenti e che in realtà hanno tematica fantascientifica spaziale cioè sono comiche cosmiche soltanto per i primi racconti ce ne sono poi altri che invece sono ambientati in una realtà diversa le Cosmicomiche propriamente dette sono narrate da un personaggio che ha l'impronunciabile nome di QFWFQ un nome palindromo che come vedete si legge in modo uguale sia da destra che da sinistra che è appunto il narratore la voce narrante benché non si riesca nemmeno a capire se è un essere umano o un'intelligenza aliena e tra le situazioni paradossali in cui Calvino forza le possibilità del linguaggio vale la pena di leggere tutto in un punto che trovate sul libro a pagina 1006 dove vale la pena significa che dovete leggere questo racconto che è una reinterpretazione originalissima del Big Bang cioè la spiegazione di come l'intero universo che era appunto concentrato in un punto e non permetteva a tutti quelli che in quel punto stavano nemmeno di muovere un dito a un certo punto è deflagrato espandendosi e confronterete il messaggio ultimo di questo testo quando lo leggerete con il passo in cui Dante dice che in qualche modo l'universo è l'esplosione dell'amore di Dio vedrete che sorta di parodia intelligente di quest'atto d'amore Calvino riesce a fare in questo testo che effettivamente per il lettore colto rimanda in filigrana alla visione dantesca negli anni parigini Calvino si avvicina a L'Ulipo Louvreur de Literature Potentielle cioè l'officina di letteratura potenziale fondata da Raymond Queneau la cui opera principale sono gli esercizi di stile più volte ripubblicati fino agli anni settanta in cui una vicenda assolutamente banale un tale sale sull'autobus perde uno dei bottoni del cappotto e dovrà andare a un appuntamento davanti alla gara Saint-Lazare viene raccontato con 99 varianti stilistiche tra cui quelle enigmistiche quelle retoriche e addirittura con vari linguaggi settoriali per esempio quelli della geometria o della gastronomia le lingue maccheroniche che imitano l'inglese il francese il latino e una nutrita serie di varianti testuali il racconto viene presentato come un testo teatrale come un'elaborazione scolastica o come un interrogatorio della polizia oppure come un sonetto come un telegramma e così via gli esercizi di stile avranno una geniale traduzione curata da Umberto Eco che riuscirà ad adattare in italiano tutta la varietà del testo originale francese l'esperienza che Calvino matura in seno a Lulipo condiziona la pubblicazione di due romanzi usciti nei primi anni settanta il castello dei destini incrociati scritto in realtà nel 69 ma pubblicato in veste ampliata nel 73 e le città invisibili del 1972 siamo di fronte a due esempi di letteratura combinatoria cioè il racconto è soltanto un gioco con cui si porta il lettore a divertirsi con gli elementi narrativi sia le situazioni sia il linguaggio è difficile è difficile realmente proporre una trama ma nel castello dei destini incrociati composto in realtà di due racconti il castello dei destini incrociati e la taverna dei destini incrociati alcuni viandanti mentre attraversano un bosco raggiungono rispettivamente un castello e una taverna qui si trovano a banchettare ma pur continuando a udire suoni e rumori si rendono conto di aver perduto l'uso della parola a fine pasto rispettivamente il castellano nell'oste sparecchiano e poggiano sul tavolo un mazzo di tarocchi con cui i commensali hanno l'idea di raccontare le proprie storie cioè servendosi delle carte in qualche modo racconteranno delle vicende anche se non possono far ricorso all'uso della parola il paradosso è evidente il romanzo è scritto il romanzo usa la parola ma narra la vicenda di persone che raccontano rinunciando all'uso della parola e utilizzando dei segni universali come le figure dei tarocchi tutti i racconti che ne derivano sono legati gli uni agli altri dalle stesse carte che sono già lì disponibili posate sul tavolo e si intrecciano narrando eventi luoghi e storie completamente distanti tra loro in parte note e in parte sconosciute si ritrovano personaggi della tradizione letteraria come Parsifal l'eroe del grande mito nordico Edipo Relir Macbeth Amleto ma anche Orlando e Astolfo perché la dimensione ariostesca così congeniale a Calvino non manca e altri personaggi letterari lo stile si adatta ogni volta alla situazione descrivendo quindi adeguatamente nobili e ricchi piuttosto che poveri o eremiti e persino la condizione di luce e di tenebra nei tarocchi sono contenute quindi tutte le storie del mondo tutti i destini e tutti i protagonisti come a dire che l'intera letteratura mondiale in realtà è fatta di pochi pezzi con cui l'autore da un lato e il lettore dall'altro possono giocare nelle città invisibili il punto di partenza e la conclusione di ogni capitolo una sorta di cornice è costituita dal dialogo tra Marco Polo e l'imperatore dei tartari Kublai Khan Kublai Khan era storicamente in realtà l'imperatore dei mongoli ma in questa finzione letteraria diventa l'imperatore dei tartari e Kublai Khan interroga il suo esploratore sulle città del suo immenso impero Marco Polo è stato mandato in missione e deve relazionare sulle principali città dell'impero cinese il libro è costituito da nove capitoli ma c'è un'ulteriore divisione interna perché ognuna delle 55 città descritte da Marco Polo è raggruppabile in base a una categoria per un totale di 11 diverse ci sono le città e la memoria le città nascoste e così via il lettore ha quindi la possibilità di giocare con la struttura dell'opera scegliendo di seguire un raggruppamento o un altro la divisione in capitoli o in categorie o semplicemente saltando dalla descrizione di una città a quella di un'altra l'autore stesso ha affermato che non c'è una sola fine delle città invisibili perché questo libro è fatto a poliedro e di conclusione ne ha un po' dappertutto scritte lungo tutti i suoi spigoli anche in questa definizione è evidente il paradosso linguistico le città invisibili che raccontano e quindi sono piene di un contenuto astratto sono trattate alla stregua di un solido materiale concreto nel 1983 Calvino pubblica Palomar è la storia di questo signor Palomar che è un osservatore del mondo e delle osservazioni che lui compie durante una lunga vacanza Palomar osserva per esempio le onde del mare le stelle le prelibatezze di una charcuteria parigi cioè di una salumeria di lusso o la corsa disarmonica delle giraffe e così via è un osservatore che oscilla tra il silenzio e la fiducia nel linguaggio scientifico che tutto può rivelare ma più osserva e più è vittima di dubbi è in questo senso un buon esempio di quel narratore inaffidabile di cui abbiamo parlato come di una delle caratteristiche dominanti del postmoderno ma soltanto perché il narratore stesso non conosce il proprio ruolo Palomar è un alter ego del suo autore e il senso della sua esperienza è riassunto così un uomo diceva Calvino si mette in marcia per raggiungere passo a passo la saggezza non è ancora arrivato quindi l'osservazione e la descrizione scientifica della realtà sono impossibili ma in fondo ciò che conta e ciò per cui vale la pena vivere è il viaggio stesso una considerazione sul nome del personaggio sul Mount Palomar presso San Diego e in California negli Stati Uniti sorge uno degli osservatori astronomici più grandi del mondo e Calvino lo scelse pensando già alle traduzioni del romanzo in lingua straniera cioè cercò un vocabolo che avrebbe avuto il medesimo significato in molte lingue segno che la dimensione del gioco letterario era importante ma con un'attenzione anche alla diffusione commerciale del romanzo con questa dimensione fortemente creativa sperimentale e certamente anche un po' provocatoria si chiude la nostra trattazione su Italo Calvino che in qualche modo rappresenta il più recente degli sviluppi della letteratura italiana del secondo dopoguerra con il quale ci confrontiamo quindi con questa trattazione della produzione di un intellettuale di grandissimo respiro europeo come fu Italo Calvino si conclude questa seconda video lezione sulla letteratura dal dopoguerra in avanti in cui abbiamo cercato di seguire alcuni degli sviluppi della narrativa nella terza video lezione a cui vi rimando ci occuperemo invece di poesia anche qui con qualche approssimazione perché uno degli intellettuali di cui ci occuperemo Pierpaolo Pasolini è stato sì poeta ma anche narratore regista cinematografico polemista e impegnato in politica quindi alla terza video lezione